ciao ragazzi e regoci tornati in questo nuovo video questo oggi come vedete davanti a noi abbiamo le nuovissime bustine disney zoom zoom serie 7 non zoom 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 ma e tu devi capire che la sua camera zoom la serie 7 ragazzi allora abbiamo presa la rese e dalla serie 4 hanno fatto un salto di qualità sono passati direttamente la 7 perché le altre serie le hanno lasciate per strada vabbè è il mystery pack o non sono mai uscite in italia infatti allora qui possiamo trovare biancaneve tamburino poi qui cosa valù valù mike tiger non so cosa sia un negozio tiger simba selly che mi piacerebbe tanto trovare questo qua non so chi sia poi abu pascal grash alcuni non li conosco il genio pinocchio mr big oddio mr big quello di sex and the city e miss piggy allora a me tra tutti mi piacerebbe trovare selly e biancaneve non le ho tassato velocemente ragazzi perché c'era un botto di gente invece a me piacerebbe trovare mike mad hatter e sapete perché ragazzi perché sotto c'è scritto la chapelliè fu che vuol dire la lo prendi in quel posto si vabbè se qualcuno ha capito la chapelliè fu che avete capito la chapelliè in the queue ecco questo era il senso allora vediamo cosa abbiamo preso dicevo ho tastato velocemente perchè c'è un boccio di gente tu hai uno ok ci l'ho azzeccato ho detto fa che ho preso pinocchio e infatti ho preso proprio pinocchio pinocchio eccolo qua e il naso è lungo? no no quindi per adesso ho fatto il buono niente bugie pinocchio allora eccolo qua allora questo qui è il teatrino vedete dove fai gli spettacoli e qui lo possiamo metterlo così oppure no non ci entra qui dentro così no va sopra e basta eccolo qua vedete un po' di naso lungo ce l'ha però eccolo qui così carino carino vabbè l'abbiamo già vista quindi è inutile farlo no sì però ce ne sono molti di più ok vedete voglio mi mangiare ne sono tantissimi questo è Jack che carino Jack andiamo a vedere Dory Boo troviamo Woody Woody Allen Sally è bellissima Lozzo questo qua è il trichego di Ariel mentre tre nomi che non abbiamo detto prima aspetta fermo mamma mia quante ce ne sono ragazzi Rapunzel Alice sì c'è anche un gioco della Playstation Destiny sì vabbè Angel Bella e Brut Mickey vabbè ragazzi la dice è una maria di scianciate noi andiamo a vedere di qua cosa c'è va abbiamo anche Perry Teddy Perry Minnie ti abbiamo preso oddio che è oddio che vuole di te ahahahahah mamma nooo vabbè ragazzi stasera vado a prenderlo nel culo ok ragazzi lui si dicono queste cose l'ho trovato ma Dante ahahah l'ho chiamato e lui è venuto le chapelli e il culo le chapelli e il culo bella bestiola vieni qua vieni qui con me adesso ci divertiamo un po' ma non ho capito chi è questo mamma mia ho fatto un danno ma non mica ho capito chi è qua boh vabbè se lo sapete scrivete insomma vabbè insomma devo essere sincero sei un po' brutto per prenderlo in chapelliè del fuo comunque va bene e qua e sopra le tazze sì vabbè non è a fuoco un cavolo niente ragazzi prendendoli al volo ho fatto un danno perché non volevo nessuno dei due ma in verità qualcosa che va a fuoco c'è dietro di te il pentolino di Alessandro e niente ragazzi ci ritroverò la prossima volta se li ritroverò perché non so ce n'erano poche di bustine al prezzo di 4,99 euro c'è anche stitch eh già sì bambi esatto figaro va bene figaro figaro esatto forse un giorno diventeranno anche Chiara e Marco chi lo sa va bene con questo noi vi salutiamo e speriamo che questo video vi sia piaciuto like se vi è piaciuto appunto iscrivetevi al canale e seguiteci su Instagram alla prossima alla prossima ragazzi bye bye